Ehi, guarda, guarda chi si vede! Se qualcuno si debita una bella annaffiata, è l'ora di liquidato il 50. Ehi, sono tornato! Spizzalo con liquidato il 50! Annaffialo e poi ancora spizzalo da soreline! Una super bagna racca con l'unico originale liquidato il 50. E insuperabile anche liquidato il 100 e liquidato il 30. Taggine! Una bella pazzesca!